Stiamo prendendo spunto da una notizia di attualità, pochi giorni fa è cominciata a girare una petizione per dire di no alla moschea a Milano o meglio per dire no alla moschea in via Gonin, perché insomma si è parlato fino a poco tempo fa della moschea in San Siro e anche lì subito sono arrivati i comitati a dire no, soprattutto il municipio 7 a dire no, la patata bollente sembra spostarsi quindi in un altro municipio ma anche qui c'è chi dice no, come diceva il sommo poeta vasco mi collegherai allora, parlando di poeti tra parentesi oggi con colui che ha un cognome abbastanza altisonante perché oggi parleremo anche di teatro e aprire una puntata che dove parliamo di teatro con un Goldoni al telefono non è male mi collego quindi con Giuseppe Carlo Goldoni, buongiorno consigliere buongiorno, buongiorno, grazie mille di essere collegato consigliere allora dicevo appunto, Giuseppe Carlo Goldoni è consigliere della Lega nel municipio 6 ed è uno di quelli che ha detto no, nel senso che appunto il comune ha individuato molto probabilmente un'area in via Gonin poi adesso mi riconderai tu consigliere che cosa c'è attualmente in quell'area e come funziona dove potrebbe sorgere una moschea, ma voi dite di no, perché? allora diciamo che l'area individuata, la cosa divertente è che non è che c'è stato uno studio col territorio e quant'altro per individuare delle aree e zone a nuovi luoghi di gusto semplicemente il comune non ha fatto altro che prendere atto di situazioni improprie diciamo questo termine perché se non era un luogo di culto lì non si poteva fare un po' come via Leilene, insomma tanto per intenderci ok una location ormai nota che fortunatamente il problema oggi non c'è più quindi lì già c'era una situazione impropria quindi un uso che doveva essere di un certo tipo e invece in alcuni giorni della settimana si trasformava in moschea quindi i disagi e le problematiche che quella location crea ai residenti e alla realtà tutta sono lì però consigliere, quello che le chiedo è questo, nel senso attualmente appunto è già comunque di fatto una moschea nel senso è un centro culturale credo sia, giusto? usiamo il termine così come è, oggi è una moschea abusiva perché non è un luogo di culto ok appunto, non sarebbe quindi meglio a questo punto togliere una moschea abusiva e fare una moschea ufficiale a questo punto nel senso che immagino che i problemi di viabilità si potrebbero poi risolvere chiedendo a chi poi andrà a costruire questo luogo di costruirlo in maniera consona e il problema è fosse un'area aperta dove uno può realizzare una moschea con tutti i suoi sacri carismi il parcheggio e gli spazi vari non ci sarebbe nessun problema ma attualmente quello è un capannone all'interno di altri, con a fianco altri capannoni che hanno delle attività produttive, chi il meccanico, chi l'officina, chi altro e di conseguenza non è che loro hanno acquistato tutto e nel momento in cui diventa una moschea cacciano tutti quanti, buttano tutto e realizzano quello che può essere la soluzione semplicemente non fanno altro che normalizzare quello che oggi è quindi il capannone è dove si introno naturalmente hanno il loro spazio sia di centro culturale che quando poi se uno entra invece di leggere un libro prega, insomma non è dato, non mi entro io, poi ci fa quello che vuole di conseguenza se oggi in quello spazio interno ci sono a esagerare dieci parcheggi da dividere tra tutti quanti, domani sempre dieci parcheggi sono Consigliere però, questo problema della moschea, mi scusi se l'interrompo questo problema della moschea è un problema che sta un po' girando tutti i municipi di Milano ogni municipio scarica il problema su quello adiacente da qualche parte però andrà pur fatta, nel senso come possiamo fare per dare dei luoghi di culto consoni e anche, mi vengo a dire, più controllabili volendo anche poi appunto dando la possibilità a tutti quanti di esprimere la propria fede come possiamo fare però a questo punto? Come possiamo fare? Naturalmente ci vorrebbe uno studio di base che analizzando quelle che sono le aree oggi non residenziali ma di uso diverso, che valutare quali sono queste aree perché a Milano ci sono degli spazi, ci possono essere degli spazi ampli e naturalmente se uno però con la moschea intende regolarizzare tutte quelle situazioni che sono state negli anni accettate e fatte in luoghi fortuiti perché uno può aver fatto la moschea in uno scantinato, l'altro l'ha fatta in un magazzino E' proprio questo, consigliere, che io cerco di far capire cioè dobbiamo trovare una soluzione perché se no si continua in questa maniera che appunto può anche portare poi a dei disagi, l'abusivismo non porta mai a buoni risultati E ma ho capito però attualmente l'attuale maggioranza non è che ha coinvolto la cittadinanza o l'opposizione nel dire va bene, perché il ragionamento, il punto come lo poni tu è corretto per dire ci sono altre fedi, noi siamo uno stato laico bene quindi vuol dire che anche le altre fedi possono all'interno delle regole della Costituzione realizzare dell'opposito Quindi Goldoni, le faccio una domanda cattiva, non mi sta dicendo no proprio perché è una moschea E allora in questo caso, cioè, allora, no Allora, un luogo di culto è un luogo di culto Ok Fin tanto che, perché nel momento in cui c'è un regolatore individua dei luoghi di culto Se puoi, individuato il luogo di culto Ok Poi chiunque prenda quell'aria ci farà il culto Il culto che vuole, diciamo Giusto Secondo lei, visto che è consigliere del municipio 6 Nel suo municipio c'è la possibilità di trovare uno spazio adeguato? Allora, anche qua Ad esempio, nel municipio 6 Gran parte, per fortuna nostra, nel centro che è lambito dal parco agricolo sud Ok Quindi, molte aree, se non fosse il parco agricolo sud Ma forse, che ne so, il terreno agricolo di Terino lo giappatore Sarebbe convertibile Uno potrebbe anche convertibile Quindi, sicuramente, naturalmente Cioè, adesso, non vorrei mai che qualcuno voglia trasformare il parco agricolo sud in qualcos'altro Quindi, massimo, protezione per quel po' Ah, quello ci mancherebbe Le zone industriali che si prestano comunque, diciamo, a questa ricinversione Si stanno trasformando tutte Perché inevitabilmente l'economia va avanti E' chiaro che qui si sta, diciamo, l'attuale amministrazione Con l'idea di voler semplicemente convertire ciò che c'è da irregolare Ho capito Ha perso tutto il tempo per quello che poteva essere Chiarissimo Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo Giusto, giusto Poi è chiaro che, attenzione, non è che Siccome il Milano ha nove municipi La moschiera deve essere, ci devono essere nove moschee Perché non sta scritto da nessuna parte Ma così come le altre confessioni Adesso che io stavo Non è che i protestanti hanno Non ho capito cosa vuole dire Ho capito cosa vuole dire No, mi spiace vedere che, insomma, a volte è più semplice Aprire un supermarket o altro Piuttosto che appunto dare un luogo di culto alle persone Mi spiace, ma questo, vabbè, è forse anche dovuto alla burocrazia Che c'è nella nostra città E non solo, nel senso alle leggi regionali, nazionali Perché deve essere individuata area di culto Chiarissimo, chiarissimo Chiarissimo L'area commerciale io posso venderle auto Posso vendere salame, posso vendere immobili Posso vendere quello che voglio L'area di culto è a una destinazione Che deve essere data dal piano Va bene Io mi auguro, appunto, consigliere che Voi riusciate magari Nel dire no a questa formula A riuscire poi magari a trovare Una soluzione che possa essere d'aiuto A tutta la città, perché, vabbè, io sono molto fan Dei municipi, nel senso che io credo che siano Il primo baluardo della politica Che sta vicino ai cittadini Quindi mi auguro davvero che Riusciate a fare un lavoro per trovare una soluzione a questo E anche a tanti altri problemi che ci sono in città Io confido molto nel vostro operato dei municipi Va bene, ci ringrazio Grazie mille davvero, grazie mille consigliere Buon lavoro Grazie a tutti Grazie, salve Grazie mille a Giuseppe Carlo Goldoni Consigliere della Lega del Municipio Se Appunto abbiamo visto, insomma Questa moschera nessuno sembra volerla Abbiamo sentito le ragioni di chi non le vuole Ma stiamo lavorando Ve lo diciamo già anche per sentire le ragioni Di chi invece la richiede Delle motivazioni per cui la comunità Così ampia come quella dei musulmani a Milano Chiede, giustamente Mi viene da dire, anche scusatemi Se sono magari forse un po' di parte Ma chiede di avere una soluzione A questo annoso problema Prima di collegarci con il nostro ospite Del mercoledì Ma è stato deciso lunedì perché mi sono abituato Che è al Bioxa che vedo già collegato Ma ci colleghiamo fra pochissimi secondi Ci colleghiamo invece con una nuova inviata Si chiama Arianna E chiedo a Francesca di dirmi quando è in onda E quindi di collegarci appunto con Arianna Che in questo momento è sul nostro tetto Eccola qui Arianna E' quel vaso che vedete sulla vostra destra Giusto? Sì? Sulla vostra destra dell'inquadratura E sta respirando l'aria di Milano per noi Di Arianna a Milano ce ne sono più di 100 Installate da Wise Air Con cui appunto siamo in collaborazione Con questa bellissima operazione di controllo E respiro dell'aria di Milano E lo vedete Allora il numero che vedete lì di fianco Che è 52 51 Scusate non lo vedevo da qua Ci vedo poco Che è 51 E' il Drammatico Direciamo Dato del PM 2,5 Medio in questo istante A Milano Come vedete è rosso Rosso scuro Quindi è il peggio dell'aria Che potremmo respirare a Milano E ahimè stiamo già iniziando A pochi giorni dall'inizio dell'accensione Di riscaldamenti Ad avere un'aria Difficile da respirare Un'aria pericolosa Pessima Verrebbe definita dall'OMS Vedete Nella grafica c'è proprio anche una scala Sotto Piccolina Che ci fa capire Le varie Tonalità Di colore Che può avere la nostra aria Diciamo così Nel senso che quando è Aria pulita È un'aria azzurra Poi può diventare un'aria verde Un'aria gialla Quando comincia a preoccuparci Un'aria rossa Quando è pericolosa Un'aria rosso scura Quando è pessima Poco prima del rosso Vedete c'è una linea Quello è il limite Su cui l'OMS Dice di porre l'attenzione Che è il 25 25 Picogrammi Nanogrammi scusate Per metro cubo Di PM2 e mezzo Oggi In questo istante A Milano La media di questa mattina È di 51 Quindi insomma Facciamo i nostri Ragionamenti Queste sono un po' Le previsioni del tempo Che vogliamo darvi Da Milano News Non solo parlare di che tempo Ci sarà domani Ma anche appunto Di che aria c'è In questo momento Perché è fondamentale Ed importante La qualità dell'aria Delle nostre città Ringraziamo Arianna Tutti i giorni Torneremo a collegarci Con Arianna Dal tetto Di Milano News Arianna Che come dicevo È un vaso Lo vedete vuoto Al momento Ma stiamo cercando Il giusto compagno Per Arianna Da mettere All'interno del vaso In modo che possiamo Anche contribuire Oltre che a respirare L'aria cattiva Di Milano Al produrre Dell'ossigeno Buono Per la nostra città Grazie mille ragazzi di Wiser Per il lavoro che stanno facendo Complimenti Continuate così Noi continueremo Tutte le puntate A monitorare Il livello dell'aria Della nostra città E a questo punto Ci colleghiamo invece Con il mico Di Milano Con il mico Fiera Milano Perché vedo Uno sgargiante Albi Oxa In giacca e cravatta Collegato con noi Albi Oxa Di Milano Integra Buongiorno Albi Buona giornata Che bello Rivedere lo Smau Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Prima di tutto Una domanda Mi sentite bene Perché Qui attorno C'è Si sei leggermente Fuori sync Ma ti sentiamo bene Andiamo Si 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 Leggermente fuori sync Ma ti sentiamo bene Ok Ok Benissimo Beh Questo collegamento È speciale Perché Solitamente Ci colleghiamo Da casa No Abbiamo deciso Di fare Fuori il fire Milano Integra Dalle case E portarlo Come dire In un centro Di innovazione Come La fiera dell'innovazione Smau Quest'edizione del 2020 Qui ci sono davvero Tantissimi protagonisti Attori Nuovi attori Del mondo Tecnologia IT E innovazione Quindi digitale E siamo contenti Di essere Di trovarci qui Insomma Per poterci confrontare Perché no Prendere spunto Eh Come mai Milano Integra Come mai Milano Integra È Asmau Eh appunto Milano Integra È Asmau Perché Ci hanno invitato Degli amici Insomma Che sono Qui Presenti Per mostrare I loro prodotti Perché noi Stiamo Adesso Decidendo Quale direzione Far prendere A Milano Integra Ma nella Nella realtà Insomma Digitale Quindi questo Direi Quale miglior Luogo Da cui Prendere Spunti E Perché no Trovare Poi anche Dei partner A cui affidare Questo sviluppo Come sta andando La giornata Asmau Com'è il In questo Smau Sotto tempo Di covid E Che cosa Possiamo Aspettarci So che So che Milano Integra Aveva un bellissimo Appuntamento Questo weekend Questo weekend Che invece è saltato Allora Allora Sì No in realtà Il fine settimana Che è passato Abbiamo partecipato A un laboratorio Organizzato Da The Good Lobby Dagli amici The Good Lobby Loro Sono Un'organizzazione Che si Si impegna Insomma A rendere Equa E democratica La nostra società Lo fa Fornendo Come dire Delle informazioni E insegnando Ai cittadini All'usare Gli strumenti Che ci sono A disposizione Per poter poi Organizzare Una campagna Di comunicazione Piuttosto che Saper comunicare Delle cause Insomma Sociali Per cui valga la pena Appunto Fare Lobby Per buone cause Come appunto Dice il nome stesso Loro Si hanno accolto Presso Cacina Cuccagna E' stato Molto divertente E coinvolgente Perché Io avevo iscritto Tutti i membri Di Milano Integra Ma come partecipanti Quindi per poi Lavorare su dei casi Invece hanno fatto Una cosa molto intelligente In questa prima tappa Perché ci sono varie tappe Di questi laboratori Adesso Bisognerà vedere Con il DPCM Comunque la prima tappa Milanese Hanno scelto Tre progetti Veri Quindi uno di questi Era Milano Integra C'erano altri due E hanno inserito Delle persone Con le quali Poi abbiamo sviluppato Come dire Una campagna Di comunicazione E' stato molto divertente Perché A parte appunto Di amici Di Milano News E quindi voi E gli addetti ai lavori E' stato il primo pubblico Diciamo Vero A cui abbiamo parlato Dell'idea Del progetto E come intendiamo Attivarlo E devo dire Che abbiamo ricevuto Parecchi rispondi Cosidivi Se le persone Hanno voglia Di essere alleate Di allearsi Per ripartire Perfetto Quindi perché no All'inizio Da prossimo Ottimo Ottimo Albi Ti devo salutare Perché è arrivata Un'ultima notizia Flash In questo momento In cui devo dare Un attimo spazio Ma sono brutto Perché evidentemente La fiera della tecnologia Siete tutti collegati Al wifi O ai 4G E infatti La connessione È un po' Scatti La vedo arrivare Però sarete tutti lì A fare dirette Perché siete tutti Influencer Quindi oramai Siete tutti lì A fare dirette Albi Ti ringrazio tantissimo Scusami davvero Se devo Ah ma che bella Infilata Sulla fiera Che ci fai vedere Tutti i colleghi Grazie mille davvero Albi Scusami se ti saluto Così velocemente Ma appunto Era un'ultima notizia Adesso in redazione A cui devo dare Un attimo spazio Grazie mille Grazie mille Albi Ox Allora sì Lo dicevo poco fa Oggi è una giornata Abbastanza piena Di novità Nel senso che Lo sapete Non doveva Doveva essere il coprifuoco Fino a ieri Tutto ok Il coprifuoco Doveva partire Questa sera Poi ieri sera È stato uno stop Da Matteo Salvini Dicendo no Non va fatto Ma è notizia Di pochi minuti fa Che invece La regione Lombardia Ha firmato L'ordinanza Per il coprifuoco Quindi Spostamenti Dalle 23 alle 5 Solo Per Motivi di lavoro O motivi di urgenza Già alcuni giornali Stanno titolando Con questa notizia Quindi firmata La petizione Per il coprifuoco Quindi è confermata Che da Questa sera Che chiedo conferma Alla redazione No Da domani sera Da domani sera E da domani sera È confermata Che dalle 23 alle 5 È stato istituito Il coprifuoco In Lombardia Nonostante Mi viene da dire Anche il no Di Matteo Salvini Invece La politica Lombarda Per una volta Ha lavorato In indipendenza E ha cercato Di portare avanti La propria idea D'accordo Non d'accordo Poco importa Però appunto È ufficiale È strafirmato Poco fa L'ordinanza Per il coprifuoco Sarà da vedere Quindi questo Micro Mini Lockdown Notturno All'interno Delle nostre vite Che cosa Andrà a cambiare Beh avremo magari Un po' più di tempo Per stare a casa E a questo punto Perché no Magari Conoscere più da vicino Le foche parlanti Che come sempre Entrano Di prepotenza Ma con tanta Tanta grazia Nel nostro Quotidiano Nella nostra giornata Di Milano News Con le proprie Con le loro Incursioni poetiche E quindi diamo subito La linea da Celia Ionach Con la sua Incursione poetica Di oggi Perché è così importante Lo chiedono Tutti Nella vita Perché è tutto Così importante Lo sono Anche le foglie Che cadono Lo sono Anche i piccoli sorrisi Che spariscono Tutto è importante Anche se Domani Non esiste più Quello che c'è oggi Lo sento Tutto è importante Ma domani Cosa resterà Dell'importanza Di oggi Ecco quello Che mi chiedo Tutto è importante Eppure Tutto Passa E attraversa L'importanza Del vivere Ben Ritornati in studio Grazie mille a Celia Ionach Con le sue Incursioni poetiche Davvero Come dicevo Mi rompe con prepotenza Ma gentilezza Questo è bello Nella nostra giornata Convulsa Un attimo Di riflessione Di pausa Di relax Proprio metà della giornata Grazie alle foche parlanti Ci vuole sempre Allora Andiamo avanti Lo vedete Sono con la mascherina Perché sono arrivati In studio con me I nostri ospiti Di oggi Diamo il benvenuto Diciamo a Teatro Guanella E la compagnia I cuori con le ali Poi adesso Andremo a conoscere Beh un volto Lo conoscete già Fa finta Fa dietro Ma è anche volto Di Milano News Ormai da un paio di settimane Sto parlando di Roberto Fantucci Buongiorno Roberto Buongiorno Accompagnato Da Fabiola Finesi Buongiorno Fabiola Buongiorno In duplice in este Sia Di Tato Guanella E compagnia Nella associazione I cuori con le ali E invece poi Andrea Parfumi Di cuori con le ali Che abbiamo visto Insomma sui palchi Insieme A Fabiola Spesso Buongiorno E grazie mille Di essere qui con noi oggi Allora perché Siete qui Perché Nonostante tutto Vabbè a dire E poi Si si ferma lì Perché sennò Vengono parole Indicibili Dopo il tutto Mettiamo un punto Nonostante tutto Punto I teatri Riescono comunque Ad andare avanti Coloro che Fanno teatro Riescono comunque Ad andare avanti E Questa settimana Parte la nuova stagione Del Teatro Guanella Giusto? Esatto Abbiamo voluto Con molta Determinazione La riapertura Del nostro Teatro Chiaramente Con tutte le limitazioni Che ci sono imposte Per legge Ma Volevamo aprire E quindi Il 31 di Ottobre Riaprire Il 31 di Ottobre Quindi riparte La stagione Di Teatro Guanella Una stagione Insomma Che alla fine Vede il cartellone Più che meno Come sempre Cioè bello Dinamico Bello pieno Di spettacoli Divisi Nelle varie categorie Come al solito Vero? Sì Questa volta Presentiamo solo Da qui Alla fine di dicembre Già Già tanto Saremo ancora qui Cioè il problema è quello Bob C'hai ragione anche tu No Noi in effetti La stagione L'abbiamo preparata Tutta fino alla fine Di aprile Però andiamo a step Come Un po' Che per scaramanzia Infatti Si va di DPCM In DPCM Esatto Di DPCM Di DPCM Per cui abbiamo Questo primo pezzo Di E allora Con cosa si apre? Allora Si apre con Il gran concerto Disney Il 31 di Ottobre Della compagnia Cuori con le ali Che abbiamo qui Dei rappresentanti Poi Lascierei parlare loro Perché Sì Allora dai Sentiamo Hanno dovuto Oh il gran concerto Disney Beh già questo Beh si apre col botto Diciamo no? Il gran concerto Disney Apriamo col botto E tra l'altro Un grazie Al Teatro Guanella Perché Anche l'anno scorso Eravamo Noi I padrini E le madrine Dell'apertura Della stagione Quest'anno Si riapre In una maniera Un po' particolare Un po' particolare Perché Come dicevate prima Si va di DPCM E DGR Anche Tutto il mondo E qui Aprirei una parentesi Tutto il mondo Degli artisti Tutti coloro Che calcano Generalmente I teatri Noi Premetto Siamo una compagnia Amatoriale Ma non dimentichiamoci Di tutti coloro Che lavorano Con Questo mestiere La nostra Una passione Cerchiamo di Trasmettere Emozioni Qualità Professionali Canore Artistiche Di recitazione Di ballo Insomma Tutto quello Che concerne O concernerebbe Un grande Spettacolo Professionale Ma dietro Ma dietro al mondo Del teatro Ci sono attori Cantanti Ballerini Tutto lo staff Che Dovrebbe lavorare Nel backstage Ricordiamolo anche a quelli Che qualche giorno fa In televisione Ha avuto il coraggio Di dire Che se chiudessero Tutti i teatri Ma tanto che business C'è Ma tanto che business c'è Insomma C'è un grande Business Visto che siamo anche Ormai in apertura Di tutto Non dimentichiamoci La SIAE Quanta Perdita C'è anche dietro Alla SIAE Per cui Cari telespettatori Cari amici Venite a teatro Il teatro è sicuro Dopo Fabiola racconterà Un po' di cose Il teatro è sicuro Al teatro Si vivono le emozioni Cosa che Uno smartphone Una televisione Non vi può sicuramente dare E soprattutto Il teatro è vivo Dietro al teatro C'è un sacco di gente Che ci lavora Per passione Per professione E noi come faremo Noi tipicamente Siamo una compagnia Che fa musical Ma Per questioni Di spazi Di regolamenti Ai quali dobbiamo Attenerci Bisogna sia nel backstage Sia in palco Stare distanziati Ok Quindi Essendo ridicolo Salire in palcoscenico Con una mascherina Abbiamo dovuto Rimodificare Tutti i vari spettacoli E quindi Un musical Come quello Che Avremmo potuto presentare E che era in programma Inizialmente Con Tutto lo staff Del teatro Gonella Abbiamo dovuto Riconvertirlo E chiamarlo Gran Concerto Disney Quindi ci sarà Intanto Grande emozione Perché non dimentichiamoci Che in ognuno di noi C'è una parte di bambino Sempre presente E sempre viva Sono le musiche Che ci hanno fatto crescere Ci hanno accompagnato E comunque ancora Ci accompagnano Ci accompagnano E ci accompagneranno Chi sa ancora per quanto Grazie al cielo Per cui Una rivisitazione Di tutte queste musiche Di questo personaggio Che ha fatto la storia Nel mondo Della cinematografia E dei cartoon Walt Disney Quindi Venite ad assistere E a vedere Come Un musical È stato trasformato In concerto Non mancheranno Le sorprese Non mancherà Tutto ciò Che è emozione E grazie Alla collaborazione Di tutto lo staff Del teatro Conella Cercheremo Di dare Il massimo Sempre per il nostro pubblico Anche In forma di concerto Ok Diciamo appunto Venite Andate a teatro Perché si va In completa sicurezza Come funziona appunto Lo so che In questo annoso Tema Ti hanno dato Di parlare Del anticorso Ti fanno cantare Che cosa? No 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 Io ballo Ah tu ballo Ok Io ballo Cantare Già ti vedevo Una sporta di sirenetta Sul palco No invece niente Che vuole gli hai dato Quest'anno Nel concerto È una sorpresa Ah ok Dobbete venire a vedere Poi Noi tra l'altro Siamo qui due esponenti Di una grande Compagnia Siete Siamo Proprio per quello In genere Negli ultimi spettacoli Oltre 15 persone Di cast Presenti in palco Abbiamo dovuto Ridimensionare il tutto Ridimensionare il backstage E Quindi salutiamo E ringraziamo Il nostro Direttore d'artistica Regista Fabio Russi E tutti i componenti Noi oggi eravamo liberi Siamo venuti qua Dicevi Fabio Allora prima di tutto Appunto per i DPCM Abbiamo dovuto ridurre Da 360 posti A un centinaio circa Per ovviamente Mantenere la sicurezza totale La platea È praticamente Una fila sì Una fila no Per rispettare La distanza di un metro Da testa a testa Quindi ovviamente I congiunti Possono stare vicini Chiaramente I posti accanto Saranno sempre vuoti Per rispettare Appunto il metro Quindi il teatro Viene sanificato Tutte le volte Alla fine di ogni spettacolo Se c'è un intervallo Anche abbastanza lungo Magari anche di un'ora Viene sanificato Quindi è tutto sanificato Camerini Bagni Tutto distanziato Quindi in realtà La sicurezza È massima Veramente E nonostante Adesso faccio il venale Ma nonostante Siano meno posti E tutto Il prezzo è sempre quello Non è già stato prezzo Sì Non è una cosa scontata Anzi In certi casi Come per i bambini Abbiamo avuto delle Situazioni In cui l'agenzia Ritrovata Doveva pagare Diciamo L'emergenza Covid No? Invece voi avete giustamente Detto no Non andiamo Abbiamo tolto chiaramente I prezzi Le poltrone Le super poltrone Le poltrone Hanno un prezzo unico E addirittura Per i bambini C'è stata Un'ulteriore riduzione E direi che Insomma Più di così Non si poteva fare Ecco Quello che andrà in scena Non è Diciamo un po' L'ospettacolo solo per bambini Nel senso che appunto Va bene però Un po' per tutti No? Beh ma Ora della fine Credo come lo dicevi tu prima Siamo un po' tutti i bambini Quindi Ci hanno accompagnato Queste musiche Così come tutti gli spettacoli Credo che facciano bene All'anima di tutti quanti Poi Che vengano definiti Per Per classificazione Spettacolo per bambini Sai È una Ciao Stavo che va bene Anche per i bambini Va bene Anche per i bambini Quindi Quello che volevo aggiungere Oltre alla sanificazione Ricordiamo Anche La prospettiva Degli spettatori È Con il volto Verso il palco Per cui Tra di loro A parte i congiunti Che possono essere vicini Non c'è alcun tipo Di contatto Inoltre Noi compagnia Visto che comunque C'è da anni La collaborazione Con il Teatro Guanella Ricordiamo che Facciamo due repliche Nello stesso giorno Per cui ci sarà Alle 15 E alle 18 Per dare modo appunto A più gente di venire In maniera anche scaglionata E separata Bob Come continua poi La stagione? Beh Questo pezzo Questa prima puntata Di stagione Continua con Allora Gran Concerto Disney Che verrà replicato Anche il 29 di novembre Mamma mia Mamma mia che concerto Che è in pratica Il musical Mamma mia Rivisto Anche in questo modo qui E Natale A Natale Puoi cantare Anche qui Un musical girato Questo è sempre Dei cuori collegali Quindi fanno Tre spettacoli Tutti Esatto Ovviamente voi siete appunto Dedicati al musical Quindi insomma Riuscite Nonostante il periodo Riuscite comunque A mettere insieme Un musical che non è Una cosa da tutti Quindi insomma In genere È uno spettacolo A forma di concerto Perché purtroppo Sarebbe impossibile Con il distanziamento Stare tutti quanti I partecipanti Del cast Sul palco Per cui Anche qui C'è dovuta A priori C'è stata Una selezione Ma non Per preferenze Ma per logistiche Anche Fattive E quindi Se facevano Per volume A noi Ci tiravano via Sì Assolutamente Se per metri quadri Io e te Non finiamo sul palco Quindi speriamo Che non Andiamo a questo rischio No Ti vedremo quest'anno Sul palco Che si creano 12 dicembre Con la cucina Che è un testo Sempre molto divertente Che è la scena Di una cucina Di un ristorante Dove avvengono Tutta una serie Di situazione Fra i cuochi Da quanto l'abbito Alla teatro Guanella Ci si è sempre divertiti A questo teatro Quest'anno Particolarmente Avete Voluto Cercare Di farci sorridere E questo vi ringrazio Perché davvero Ne abbiamo Ne abbiamo bisogno Ricordiamo Però bene Allora Dov'è il teatro Guanella Come funziona Come si fa Per poter Prenottare i biglietti Buono Fabio Perché so che lei L'ha detta La cassa Quindi Altro motivo Per andare a Guanella Trovate Fabio Alla cassa Questo è un buon motivo Che per andare a teatro Guanella No? Un buon motivo In silenzio Grazie 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 Usatemi Parliamo prima di gente Che si addormenta In situazioni imbarazzanti Ecco questo Allora Noi ci troviamo In Viadupre 19 E i biglietti appunto Abbiamo deciso Di fare il posto unico A 15 euro Per gli adulti Mentre per i bambini Dai 13 anni 7 euro E potete Acquistare i biglietti Su Viva Ticket Oppure direttamente Al giorno dello spettacolo Chiediamo però al pubblico Di arrivare almeno Con 30 minuti di anticipo Vista la situazione Covid E infatti Meglio Conottarsi via Meglio convali prima Quanto almeno Siamo sicuri Di trovare il posto Ad appunto Non so se vorrebbe Che poi magari Visto che sono proprio Contati i posti Secondo si dice Qui non ce n'è uno Più nemmeno Quelli sono Non si può Entrare più Insomma La situazione È quella che è Ricordiamo che c'è Lo sito internet In cui possiamo Trovare tutto il calendario www.teatroguanellamilano.com Ci trovate anche Su Instagram E su Facebook Prossime opere A cui volete mettere Le ali Voi invece Quali sono Allora Il progetto Allora Calcola che Fabio Russi Ogni anno Mette in scena Qualcosa di nuovo Quest'anno È stato Tutto questo lavoro Castrato da Questa situazione Sicuramente Perché diciamo È complicato per voi Immagino Fare le prove Dovevi vedere È stato Un disastro È tutto Su regolamento Tutto Preciso Si sta viaggiando Molto Sulla virtualità Grazie ad applicazioni Grazie a situazioni Particolari Una buona connessione Internet Si riesce In qualche modo Comunque a Gestire alcune Situazioni In virtuale E non in presenza Ma sicuramente Quello che Manca È sempre Il contatto La presenza fisica Mi viene da ridere La trasmissione Di energia positiva Energia positiva Quindi Fa tanto Perché comunque Non dimentichiamoci Che tutto ciò Che è teatro E chiunque Può essere All'ascolto In questo momento O che vedrà Poi il video Che è del settore Mi può sicuramente Dare conferma Il teatro è vivo Il teatro Dà tanto Il teatro cura Il teatro aiuta Tutte quelle situazioni Di solitudine Di Anche Bisogno Di calarsi Nei panni Dell'attore O di Interpretare In proprio modo Quello che Si sta vedendo E vivendo Sul palco Quest'anno Forse più di altri anni È importante Invece stare vicino Al teatro Proprio come diciamo Prima Infatti Dini Bob E ha maggior ragione Proprio per stare vicino Al teatro Una piccola parentesi Scusa Chiedo a Francesca Intanto in regia Se può caricare Il teaser Del mio storytelling Awards Per dopo Così almeno Parliamo anche di qua Ragazzi Il teatro Guanella Dovrebbe ospitare Con grande probabilità La seconda Rassegna teatrale Del municipio 8 Dove Delle compagnie Presenti in zona Rappresenteranno Dei lavori A titolo Totalmente Gratuito Proprio per spingere Il teatro Verso La popolazione Verso il pubblico Verso chi È interessato A uscire la sera E a vedere qualcosa Con un po' di Pathos E appunto Dicevo Più di quest'anno Ancora bisogna stare vicino Ai teatri I teatri L'hanno risentito Tanto Tant'è che quest'anno I nostri Telling Awards Che potete già votare Da oggi Hanno una nuova Categoria Che è proprio Quella di miglior teatro Ma allora Prima di chiudere Vediamo La spiegazione Poi il teaser Di cosa sono I nostri Telling Awards E come potete fare Per votare E proporre I vostri candidati Perché voi ci dite Chi secondo voi Deve vincere E noi lo mettiamo In nomination Bye Francesca Bye Francesca Mi E Grazie a tutti Ogni voto, ogni punto farà cambiare il risultato finale E poi l'11 dicembre ci vedremo in diretta qui su Milano News Per una serata finale molto online in questo caso Con tutti i candidati, tutti i vincitori e tutti coloro che sono passati in questo anno di Milano All News Chiudiamo la cosa di oggi appunto ricordando la stagione teatrale del Tratto Guanella Ecco qua il calendario, il... come si chiama? Non il pari sesto, il... Flyer Flyer L'ho chiamato, sono moderni anche loro ormai Questa diciamo la prima parte di stagione La seconda la teniamo ancora nascosta per scaramanzia Perché non ci sa mai tra DPCR, DGR e compagnia Val Cosa viene fuori Quindi questo è quanto Ricordiamo il Tratto Guanella, Via 2.319 giusto? Una traversa di McMahon Di McMahon Quasi Con ampio parcheggio gratuito Un ampio parcheggio gratuito interno Ponte da Ghisolfa per interno, c'è proprio lì dietro Si inizia domenica giusto? Sabato 31 Già sabato, il 31 è sabato Già sabato si inizia con questo gran concetto Disney Fatto, portato in scena dal gruppo del Cuori con le ali Che poi ritroveremo anche appunto durante la stagione del Guanella Io vi ringrazio tantissimo davvero di essere stati qui con noi oggi Grazie a voi Complimenti per l'accapabilità e la forza con cui alla fine ce l'avete fatta Ricordiamo che ad esempio avete dovuto anticipare gli spettacoli serali Alle 19, via del tipo di per via del coprifuoco appunto appena firmato pochi minuti fa Dal presidente Fontana della regione Quindi insomma tante difficoltà sul percorso Ma non vi siete fermati anzi E vorremmo non fermarci Se c'è l'ostacolo quando si salta a piepari e si va avanti Complimenti davvero a Tato Guanella Complimenti ai buoni con le ali Ci si vede a teatro, è sempre bello dirvelo Quindi io sono contento davvero di avere avuti ospiti qui con noi oggi Grazie mille davvero e buon giornate Grazie a voi che ci avete seguito Lunga puntata quest'oggi Ma come avete visto le cose erano tante da dire Noi ci vediamo venerdì Sempre più in diretta con una puntata di Good Morning Milano Grazie mille, arrivederci, a presto 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 Grazie mille, arrivederci, a presto